Un'idea per portare i turisti fin dentro al cuore della città, superando le barriere che oggi separano, ad esempio, il porto dal centro antico. Lo prevede il comune di Napoli con un bando europeo, che prospetta un innovativo sistema di trasporto con navette ecologiche per accompagnare i viaggiatori in transito alla scoperta delle aree storiche tutelate con la recente zona a traffico limitato. Napoli intende rispettare le logiche di uno sviluppo economico intelligente, solidale e sostenibile per la città, sottolinea l'assessore allo sviluppo Marco Esposito, quei principi che trovano la loro massima espressione nei temi del World Urban Forum. A Napoli sono sempre arrivati, arrivano tanti turisti, ma spesso si fermano alle periferie, non entrano nel centro antico della città perché ci sono delle barriere reali, delle barriere come via Marina, delle barriere di comunicazione. Noi con questo bando per navette ecologiche porteremo i turisti all'interno della zona traffico limitato, in modo sicuro, tranquillo e organizzato. Come? Il bando si affida a privati, privati che quindi ci aspettiamo si mettano insieme, operatori turistici, commercianti, artigiani, persone che sono tutte interessate all'animazione economica del centro antico e riceveranno un gettone, un gettone consistente a più di un milione di euro per l'acquisto di queste navette, che però gestiranno loro in accordo con la mobilità e permetteranno fermate all'interno del centro antico con minibus. In questa fase di crisi economica che hanno sofferto tutti, soffrono tutti i commercianti della ZTL e tendono a prendersela con la chiusura del traffico. È un errore perché qualunque zona di quel pregio non deve avere una circolazione di automobili, ma deve avere una circolazione forte di turisti e di persone che vogliono vivere il centro antico. Il bando, pubblicato fra le iniziative del Mese dell'Innovazione, scade a mezzogiorno del prossimo 10 aprile.